Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Stavolta è finita sul serio, dopo quattro pareggi consecutivi valsi comunque la prosecuzione dell'avventura, il Pescara perde a Salò con la Feralpi per 2-1 e dice addio ai suoi sogni di promozione in B nei play-off, comunque già ampiamente ridimensionati dopo i rendimenti degli ultimi due mesi. Serviva una vittoria e anche il pari non sarebbe bastato a una squadra che con Zauri aveva centrato l'ultima volta i tre punti in campionato con la Pistoiese nella seconda partita dell'allenatore marsicano e che invece si è dovuto arrendere alla formazione lombarda che accede ai quarti e continua a sperare una promozione che sarebbe un vero e proprio miracolo. Per il Pescara che pur ha visto con sé in riva al Lago di Garda al seguito un manipolo di tifosi apprezzabili, per ottimismo e attaccamento ai colori, solo un tempo di speranza prima di capitolare per i soliti errori difensivi che hanno caratterizzato tutta la stagione, pagando stavolta anche le assenze contemporanee di Derisio e Pompetti a centrocampo. Ma i problemi arrivano da lontano e dagli appuntamenti mancati nei mesi scorsi quando la squadra ha dimostrato di non avere la forza per andare avanti. Ora ci sarà da programmare dopo un campionato che non può non essere considerato deludente. Si parlerà dell'allenatore Zauri cui non è riuscita l'impresa quasi impossibile di cambiare le sorti di una stagione. Nel dopo Auteri, ma arrivato in ogni caso troppo tardi che comunque non ha inciso né nelle scelte degli uomini, né sul morale, né soprattutto sul gioco. Per Zauri che ha il contratto fino a giugno, ora dopo una pausa, la possibilità di avere un'altra chance con una squadra pensata per le sue idee calcistiche. Anche se sarà difficile considerando che dietro l'angolo potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione anche societaria.